La provincia di Milano sta realizzando l'interconnessione nord-sud tra Cascina Merlata e l'autostrada 4 Milano-Torino. Si tratta di un'opera connessa a Expo 2015, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2013 come necessaria per garantire l'accessibilità alla porta sud del sito espositivo. In merito a questo intervento, Prefettura e Provincia di Milano hanno stipulato un apposito protocollo di legalità finalizzato ad elevarne la sicurezza attraverso misure di maggior rigore rispetto alle ordinarie procedure di controllo ai fini antimafia, a tutela della legalità e trasparenza nell'esecuzione delle opere di interesse strategico per il successo di Expo. Questo che vedete è l'intervento che sta seguendo la provincia per quanto riguarda le opere Expo e l'opera Expo è un grande rilievo che la provincia sta seguendo. È un intervento da circa 22 milioni di Euro che è stato assegnato ad un'associazione temporanea di impresa Gimaco e Ingeco. Intervento molto importante perché consente il collegamento della rete autostradale con il sito espositivo, con il quartiere di Cascina Merlata e con il sito espositivo. Praticamente attraverso questo nodo avremo la possibilità di accedere soprattutto con i mezzi del trasporto pubblico al sito espositivo. Abbiamo fatto già una prima parte che riguarda lo spostamento della parte sud dell'asse stradale e dell'asse autostradale a sud, quindi già il traffico viario sta percorrendo una parte di opere realizzata nei primi mesi dell'intervento. Da metà gennaio inizieremo con le opere di completamento per arrivare alla fine di marzo, ai primi di aprile e ultimare l'opera. Siamo molto soddisfatti proprio perché questa è un'opera rilevante dove provincia ha dato un grande apporto per la propria organizzazione, per aver rispettato ed essere stata all'interno dei tempi.